Salve, sono qui per ricordarvi che prossimamente su questa emittente partirà un programma napoletano presentato da Mr. Pop Chiaranio Melodica Un programma tutto fatto di canzoni e un gossip napoletano che cosa tratta? Tutto vi trovi aggiornati su tutto ciò che riguarda la musica napoletana Sarà un programma veramente divertente Per tutti coloro che vogliono partecipare al nostro programma e mandare i vostri video Possono chiamare al 339-3473011 oppure 331-3215-501 Ma con noi chi ci sarà? Mauro Nardi Anthony Carmelo Zappulla Antoine Tomiriccio E tanti altri cantanti Signori ci divertiremo tutti insieme con l'intervista e con i vostri figli E inoltre ci saranno dei nostri ospiti particolari Chi ci sarà? Villarieto Ciao ragazzi, anch'io sarò presente al programma Sotta Chi Tocca, mi raccomando, non mancate E poi? Ivan De Luca Nera come il caffè per tua madre, tu sei una pazza Anche io sono presente a Sotta Chi Tocca, ragazzi mi raccomando, vi aspettiamo, un bacio dal vostro Ivan De Luca Perciò vi aspettiamo su questa rete, Sotta Chi Tocca con Mr. Poppi E Chiara Neomelodica Passaparola